Cosa augura ad Arezzo e agli aretini? Auguro tanta fortuna, la fortuna da sola serve a poco, ma a volte serve a poco da sola anche l'abilità e l'impegno, quindi è una miscela di abilità, impegno e fortuna che può fare risorgere questa città. Siamo sulla strada giusta, i miei concittadini hanno riacquistato con orgoglio a dichiararsi aretini a tutti gli effetti, sono passati momenti brutti della crisi economica, della crisi di Banca Etruria che ci ha portato tanto male e oggi la città si sta riconoscendo e si sta riscoprendo, quindi l'augurio è che il 2019 sia migliore del 2018 ma che effettivamente la città ritrovi questa coesione interna che è fondamentale per qualsiasi tipo di crescita. Come si chiude infatti questo 2018 e cosa si augura per il 2019? Si chiude con una grande manifestazione che ha portato in città tantissimi turisti, tantissime persone interessate a quell'evento ma che venendo in città per vedere quell'evento scoprono una città bellissima e quindi sicuramente torneranno per godersi le nostre tante bellezze e su questa onda noi abbiamo programmato anche per il 2019 delle iniziative in vario numero e di varia importanza sempre con il significato di veicolare il nome di Arezzo in tutti i consensi internazionali e nazionali possibili e tra le tante declinazioni che questa città può proporre secondo me con forza è il momento di proporci come città della musica.